bene ha iniziato eccoci per la sessione di cristina come sempre sabrina conto da 51 ti connetti a cristina 54 4 o come la vedi si mostra in una vita parallela un precedente barra parallela e una donna africana siamo in africa la vedo con un vestito lungo tutta coperta è una sorta di turbante sulla testa è una donna di colore africano e intorno vedo sette figli di cui lei si occupa dimostra questa vita è bella molto e molto bella e bella ed è elegante dentro mi sorride mi sta sorridendo come si chiama joe che hanno 1980 questa linea temporale no ok quante linee temporali vedi allora legate a lei io ne vedo 667 dove ci sono diverse vite cioè come se le sue vite parallele non fossero tutte ovviamente su questa linea temporale ma su sette linee temporali che vedo una sopra l'altra come sette fogli no molto molti grandi dischi della pizza molto molto grandi di pasta della pizza uno sopra l'altro che volteggiano sopra l'altro su ogni disco quindi su un piano bidimensionale qua e là ci sono delle sue vite su con un ordine fittizio di tempo perché ormai li definiamo parallele in realtà si parla di farlo e dello stesso impasto della pizza dello stesso disco significa che sono tutte sullo stesso piano quindi sono parallele poi 1800 1900 1100 ok però è una convenzione solamente sì ok è come se le vedo che stanno accadendo tutte simultaneamente cioè io mi sono innalzata quando mi ha fatto la domanda ma realtà le vedo tutte simultanee quindi sì ok ti dà l'autorizzazione cristina sì sì con la donna africana bellissima che mi guarda e mi dice sì ok io non ho detto nell'esposizione dei punti che non è nella registrazione di cristina ma un'ora prima della della sessione questo non mi capita mai ho osservato un'ape tra l'altro un'ape in difficoltà con una zampa credo la destra piena di polline e la sinistra no o non aveva la zampa sinistra quindi comunque non si vedeva questo pallino giallo nella parte sinistra infatti quest'ape diciamo era in difficoltà e poi alla fine è caduta e forse anche finita male non sono uscito diciamo fatto un tempo aiutarla ogni cosa ovviamente ha un senso prima della sessione dimmi diciamo che se quello che vedo riguardo a quello che sta dicendo che comunque lei ha una parte d'arica molto attiva e la parte d'arica comunque legata alla natura quindi agli animali anche quindi quello che comunque tu hai visto è come se calcolando sempre che tutto quello che noi stiamo facendo io lo vedo dal mio punto di vista quando sto qui come se già accaduto è come se ci sono delle dei momenti in cui si sovrappone il tempo e lo spazio quindi è comunque un collegamento con con lei con la sua persona e lei a questa parte terica che adesso sto vedendo che è molto comunque in percentuale di più della ps la vedo vedo un 60 per cento di 60 ma questa sua particolarità diciamo così è comunque un collegamento forte con con la natura una connessione forte con natura animali che sono comunque c'è comunque animali parte d'arica questo è quello che ha detto a quanto fibra cristina 9 miliardi quindi già molto alto quanto è la sua consapevolezza 127 per cento ok la latte che ho visto un'ora fa a una parte eterica si può definire per degli animali degli insetti che vivono in gruppo che ci sia anche una parte eterica del gruppo quindi in questo caso dell'alveare allora la scena che vede come in questo momento sto vedendo un alveare quindi diversi avi messi insieme che collaborano e questa loro loro collaborazione formata comunque perché io vedo il corpo e poi queste palline luminose che sono come parti energetiche che le permettono ovviamente di stare qui che si uniscono quindi in qualche maniera è come se loro comunicano a livello proprio eterico non parlano loro comunicano a livello proprio energetico per un bene comune quindi è come se alla fine formano un'unica palla chiamiamola così come la sto vedendo io energetica per il loro bene comune e la per regina un po il centro della palla quello che vedo è come se comunque a livello di di natura naturale loro devono avere comunque una gerarchia ma a livello energetico è leggermente più alta cioè come se fosse dal mio punto di vista eterico dove stiamo adesso la l'essere più con più consapevole tra virgolette è come se avesse un pochino più di conoscenza e quindi di essere le direttive per il bene comune e poi vedo tutte le altre parti eteriche leggermente più piccoline che si uniscono per il bene di tutto l'alveare quindi per il bene comune di tutto loro la loro vita il loro gruppo ecco qua qual era se lo vedi il malessere dell'ape che ho visto ora se mi innalzo un pochino quello che vedo vedo dietro una mantide è come se l'avesse c'è un'entità eterica un'energia che comunque come se ti sta dicendo come se volesse dare un segno della del blocco della di questa sessione che comunque non è stato ovviamente portato a termine però in realtà come se avesse dato un un cenno della serie sì e il caffano subito dopo che l'ha mandato io vedo due mantidi dietro questa situazione hanno interferito con me quindi chiama queste mantidi mettile di fronte a te io entro nella tua scena con la mia mano destra e brucio con la mano destra abbiamo alzato insieme la vibrazione e si sono bresciate chi ha mandato le mantidi fuori su 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 vedo il falconiforme è odino scusa l'aquila senza male ma interferisce che con cristina immagino diciamo che a livello alto lui interferisce con tutti quindi si e perché mi ha mandato il caffano che peraltro ho cacciato e scattandolo l'ho ucciso sono tutti i segni per secondo loro che chiaramente non è così ma secondo loro è come se volessero tentano non sanno come se non sanno più cosa fare come posso dire ormai è il discorso di alcune situazioni che stiamo facendo con la collaborazione delle persone che che comunque si puliscono e comprendono e prendono consapevolezza ha raggiunto livello tale dove comunque diventa più difficile interferire quindi comunque ci provano ma è come se sono cercano di farlo in maniera più fisica perché io vedo come se non c'è loro vedo come se mandano delle li vedo come energeticamente che arrivano ma rimbalzano come posso dire anche in termini fisici si ma stupidaggine si stupidaggine in questo tipo nel senso che non arrivano più più in profondità come prima quello che vede è come una anche al parlando di te di noi e delle persone che che comunque chiamano per che prendono consapevolezza le a livello vibrazionale più alte quindi diventa sempre più difficile raggiungerci questo quello che è vero e quindi tentano con delle situazioni più fisiche più visive ecco che noi possiamo renderci come come ha dato quest'ordine del tapano di no l'ha detto con la voce l'ha ordinato con gli occhi no lui comunica in maniera eterica cioè lui pensa e crea lui sa perfettamente quello che come funziona la matrix la stessa oggi ho giusto loco i suoi occhi quindi entro nella scena mi alzo la mia energia dimmi a quanto vivono 15 miliardi li facciamo diventare al 1500 e il mio dito indice medio contemporaneamente finiscono entrambi nei suoi occhi fa delle se si muove tutto strano ok entrano di più entrano fino al cervello si allontanato che sta allontanando ok questo riguarda me ovviamente la prossima volta non sarà così buono ok cristina interferita da entità eteriche vedo 2 dl che non sono dentro ma che comunque cercano di entrare ma lei comunque essendone consapevole le diventano difficile cioè lei li conosce conosce la loro energia la sua ps conosce i lavori che fanno e gli inganni che che danno quindi però e sono intorno a lei ogni tanto la attraversano passando dal lo stomaco questa parte qui 2 poi codino le due le manti di realtà sono collegate anche a lei perché adesso che abbiamo detto di vedere l'interferenza eteriche io ne vedo due vedo queste due mantidi qua davanti a me legate a lei e poi ci sono delle abduction nell'abduction poche sono una ogni due mesi nelle abduction ci sono i rettili che lavorano con lei su di lei a livello della io vedo del è come se lei a dna interessante mi arriva questa cosa analizziamo lo dna eterico di cristina elettiliano il 10 per cento ok quando una volta ogni due mesi circa è sottoposta un abduction la mattina lei cosa sente come si sente come lo avverte come lo canio quello che vedo da prima che lei lo vede proprio io vedo che lei a televisioni lo vedevo anche prima vanno e come se lei ha proprio delle visioni lei a un energeticamente un discorso visivo c'è una sua capacità io vedo che vede come se deve ea particolarmente questo legame con il legame nel senso scusate nel senso è riesce a percepire di più la interferenza rettiliana perché c'è un clone suo fatto con il suo dna da un'altra parte dove quindi maschio famiglia vabbè il clove ne definiamo sempre anche un clove librido in realtà oggi lo spiego chi poi mi chiede delle sigle con la propria pronta quindi può anche essere un clone può anche essere un uomo per una persona donna quello che vedo è sono andato dal clone a in un pianeta vedo a alfa dragonis dragon dragonis l è stato fatto con il suo dna e quello che succede che a volte anche a livello onirico lei in realtà la sua ps valli e vede tramite gli occhi di questo suo clone perché la ps riconosce il dna sente il suo dna e balli e quindi lei ha questo collegamento qui e vede fortemente lei vede proprio io vedo in determinate scene che mi sta mostrando che lei vede proprio il rettile vede proprio il accanto una persona cioè come se vede la persona e dietro vede questo dinosauro io lo chiamo così lo vedo così che lo schiena segue si è interferita da quel tipo di situazione da me la storia si vede quindi riesce a percepire a livello visivo però vedo fortemente questa cosa a livello visivo lo vede c'è una parte di lei che lo vede letta detto che fino a cinque anni vedeva particolarmente bene le entità dietro alle persone ci ha fatto un esempio una notte insomma è andata nella camera dei genitori c'era un omuncolo chiaramente visto in eterico con gli occhi rossi che le ha detto noi ci vedremo più avanti negli anni è un rettile realtà sarà un atti ce l'ha ancora è il collegamento come se vedo in quel momento le hanno detto che poi sarebbe successo del suo crone ballo clone barra ibrido realtà lei la in realtà era uno di questi qui uno dei rettigiani che poi le hanno preso il dna anno in cui è nato il clone 1990 entità mentali se ci sono allora quello che vedo è questo come tutti chiaramente stando qui c'è il collegamento con con la mente collettiva però quello che vedo nel suo caso è come se lei anche per la tipologia di scelte che ha fatto quindi tra virgolette ribellandosi a determinate situazioni a determinate costrizioni della famiglia della società eccetera cerca di non di non avere collegamenti a livello mentale cerca di essere il più libero possibile però c'è un collegamento un pochino che interferisce con lei lo vedo di livello 2 basso quindi vedo questo collegamento della sua mente con questa parte di mente collettiva con questa entità di fumo grigio dove comunque c'è una piccola come dire non paura ma attenzione al prima il giudizio degli altri però a livello mentale non ci sono lei non da retta cioè le diciamo le interferenze 30 no però lei ha un'esperienza dps non so un discorso mentale anche qui ascolta abbastanza se stessa non le dà non le dà un'energia non le dà attenzioso questo fa bene sia più libero da so liberamente senza chiamarli i membri della sua famiglia si presentano allora io vedo i due figli che vengono per mano vedo un bambino più alto e due bimbi due ragazzi che si presa li vedevi mentre sì perché ho chiesto infatti saranno due maschi se lei ha un ottimo rapporto comunque c'è da qui veramente un rapporto loro la sentono molto la mamma sono comunque molto anche tutta questa cosa cioè io quello che vedo da qui è come se loro apprezzassero anche a livello proprio di donna no come lei si comporta non solo per un discorso di mamma in questa vita perché poi la mirano come posso dire la prendono come esempio quindi è già da prima che vedevo che erano interessati erano chiamati in causa quindi sono un marito compagno più scettico se lo cerco è in lontananza dietro i ragazzi cioè è curioso però lui è più più scettico che ci sono i compagni non se ne salva uno non vedo come per dire sì mi interessa perché ha rispetto per te ma io la mia vita al mio guscio sto bene così la mia sono creato questo sto bene qua va bene ne invitiamo chi vuole essere presente io adesso un invito speciale c'è un però scusami c'è un uomo anziano disincarnato sì ok ma volevo anche chiedertela questa cosa più avanti dove è attaccato a cosa alla casa o al posto in cui lavora dove c'è l'attività esatte con disincarnato chi è qualcuno che ha vissuto lì qualcuno un uomo che ha vissuto lì che ancora lì perché stavo cercando quando abbiamo detto chiamiamo che vuole insomma la situazione aperta per prendere informazioni ho visto sotto dei bimbi in lontananza al compagno marito e poi da qui dalla sinistra mi è comparso questa persona che usciva da questa cosa di lavoro visto le api dietro quindi la villa nella villa cialdi ci sono altri vedo sì nella villa ce ne sono un po vedo legati al medioevo questa villa io di disincarnati ok diamo un barattolo di miele a questo qui che si è presentato che è tutto tutta la conoscenza tutto lo scibile tutta l'informazione delle mie sessioni concentrata e moltiplichiamo questo barattolo di miele per ogni metro quadro della villa su tutti i piani così che tutti quelli che sono lì evitabilmente come gli orsi vadano al miele allora lui mangia il miele anche con una certa cosa si non sa come se è strano perché come sempre vedo le cose sovrapposte come se loro sapevano che sarebbe arrivato questo momento cioè e quindi erano già lui era già lì e poi anche gli altri vedo delle donne vedo delle delle donne di mi si mostrano come delle donne di servizio no con questi vestiti lunghi con questa cosa sulla sulla testa questa sorta di che stanno lì che come se servivano se facevano le pulizie non so se comunque erano donne di servizio di questa casa domestiche non mi veniva la parola con dei servizi che prendono il miele e tra virgolette mi dicono come se approfittiamo della situazione per cercare di capire di uscire di lì perché come se parliamo di sono disincarnati da tanto tanto tempo sono come se fossero quanti ce ne sono 25 ma tutti mangiano 20 si poi vedo cinque persone di cui una persona in particolare la vedo vedo un uomo un po bronciato che come se fosse stato all'epoca una persona un padrone tra virgolette che non prende va bene il miele adesso si illumina alza le sue frequenze l'informazione aumenta di frequenza aumento di frequenza l'informazione significa che mostra la relatività delle vite vite in cui un è stato padrone l'altro stato domestico un è stato bianco non era nero un era giallo un era rosso mostra ogni disincarnato la molteplicità delle proprie esistenze e la l'inutilità del rimanere bloccati in una di queste mille 2000 3000 esistenze in più questo sistema di aumentare la frequenza dell'informazione permette solitamente come di recente abbiamo sperimentato al disincarnato di non aprirsi un portale qualunque dove c'è il prossimo step ma di aprirsi un portale molto più avanzato sta succedendo questo si apre un vedo il tunnel che abbiamo visto a livello più alto in qualche sessione fa molto tutto illuminato pieno di cristalli che girano in questo luce alla fine di questo tunnel molto molto energeticamente vibrazionalmente potente e loro iniziano a che ha mangiato il miele inizia a comprendere mentre già tu parlavi dicevamo del discorso di comprendere che è relativo chi è stato cosa in una vita anziché un'altra è solo esperienza no quindi non ha poco senso qui questo punto e vedo e questi venti che hanno mangiato e che entrano in questo tunnel molto bello e 5 che fanno tre ne entrano e rimane quel famoso padrone diciamo di questa casa di questo momento è la sua moglie come se sono ricoperti o tutti o nessuno ricoperti di miele va bene che la gente stupida ma fino a questo punto proprio la propria pronta ok allora è caduto del miele dalla sopra di loro e ho visto come se davanti a loro fosse dei fotogrammi di tutto ciò che hanno vissuto e di per comprendere quanto è come dire nell'attivo sì e si sono presi per mano e sono diventati delle non si mostrano più in forma umana ma in forma energetica e come se avessero compreso e entrano nel tunnel anche loro tra gli altri hanno già entra di prima ok chiudiamolo verifica che il posto in cui abita cristina sia pulito da disincarnati questo era il posto della della villa a cristina abita al toga e per questo infatti che l'ho detto non dove appena in questo momento non ci sono disincarnati all'interno ok chiamiamo ad assistere alla sessione tutte le api del mondo chiamiamolo il grande alveare da questa massa di insetti e questa forza eterica ok vedo tutte le api e come se spiego i loro corpi fisici e sopra un'unica massa energetica collegata al corpo fisico con un filo un'unica come la definiresti questa parte energetica di tutte le api del mondo materi parte dell'adere grande alveare o alveare grande alveare ci vuol dire qualcosa il grande alveare loro dicono come se loro sono più collegati alla parte energetica eterica della dell'essere dell'universo è come se fosse uno dei loro primi step qui però in realtà quello che dicono è come se dicono che sono più collegati loro di noi loro sono più puliti perché più energia pura più spirito più etere e quindi sono più collegati anche tra di loro non hanno pregiudizi non hanno se collaborano in un'unica forma eterica per il bene della della sopravvivenza a livello naturale nella loro specie cosa pensano della presunta esistenza di api robotiche esistono api robotiche ce ne sono qualcuno qui che hanno mandato nella matrix per controllare e interferire con voi quanto sono sono api al quale sono state prese e messe all'interno della loro del loro corpo dei microchip che controllano sono il 20 per cento della terra delle api sulla terra è come se tramite loro tramite questa tipologia di api robotiche loro quando si possano anche tanto voi controllano quello che fate stai parlando con la voce dell'alveare no sì queste api robotiche sono all'interno di armi e vengono riconosciute no vengono riconosciute non le fanno in loro non li fanno entrare ok c'è in questo grande alveare la parte relativa all'alveare con cui ha a che fare cristina per lavoro che vuole lasciare un messaggio a cristina loro dicono come se adesso sono mi sono spostata nel suo nella sua parte di alveare e quello che vede che c'è questa parte energetica che ringrazia di essere protetti dalle da tutto quello che purtroppo non è bello in questo mondo nei loro riguardi perché loro dicono che loro fanno parte della catena alimentare fanno parte della dello sviluppo e della susseguirsi di tutta l'energia di tutto la vita a livello fisico di tutti gli animali per l'impollinazione per tutto quanto e quindi è molto importante che una ps venga si si occupi della protezione di questa parte perché questa parte importante per far sì che questa terra e questa matrix si riporti sia venga conservata una parte importante altrimenti la terra potrebbe finire partendo dalle api arrivando agli insetti arrivando agli animali ai lupi volpi a tutta a tutto perché tutto collegato quindi chi protegge questa parte è comunque molto collegata all'etere e a una una sensibilità che che loro riconoscono io vedo alcune volte come se delle api si posano su di lei come per c'è una parte energetica che si posa su di lei per sembra quasi che abbiano un conoscimento si è commosso sì perché è una cosa è potente cioè come se fosse un pezzo di veressenza di tutto a livello energetico puro eppure si tra gli insetti che vivono in comunità le api sono le più speciali solo che le api hanno un compito appunto più oneroso maggiore l'impollinazione i semi ecco va bene che stile impianti io vedo un pallino all'interno della fronte della testa come controllo mentale o eterico no eterico da me la mantile una delle mantili non rettiliano un rettile ok cause sottile case c'è del sovrappeso tra l'altro ingiustificato siccome a livello alimentare va tutto bene dopo la seconda gravidanza c'è stato perché stavo finendo di vedere gli impianti come se hanno messo un qualcosa come se hanno bloccato la sua parte ovarica delle ovaie vedo dei pallini e quindi è come se hanno bloccato il fluire dell'energia vitale diciamo della donna quindi collegata anche agli ormoni sempre che ricco quindi no un pallino un altro pallino all'interno della bocca dello stomaco che le dà a volte dei momenti di ovvio negati intestinali ok sovrappeso quello che hai detto tiroide collegata questa è questo blocco come se ci fosse un blocco energetico quindi lei non riuscisse cioè vuole vuole ma non riesce a fluire la sua energia a livello proprio di energetico per questi impianti ma blocchi anche blocchi energetico proprio come se questi impianti delici blocchi bloccano l'energia quindi non la fanno influire per far sì che il suo metabolismo sia attivo più di tanto come per bloccarla diciamo a livello di se non deve capito colonna vertebrale dei vasi diretti che vanno al cervello e non incrociati il 15 per cento delle persone al mondo a questa caratteristica diciamo che in certe situazioni future ipotetiche potrebbe risultare uno svantaggio ma lei sente più velocemente è quello che le permette di vedere come se avesse un'apertura maggiore a livello fisico di dna quindi a questa io vedo al proprio dietro la sua testa proprio un'apertura fatta così un tipo in bulbo aperto verso l'alto che le permettesse poi di arrivare alla parte oculare e di avere un'apertura maggiore non agli occhiali che me che abbiamo uno che hanno gli umani come posso dire come se avesse dei lì non ha detto esatto mi vede di più a livello eterico lei a questi impianti sono stati messi quando lei hanno va ha notato che oggi ha un buon lavoro e le piace un sacco ma tempo fa ha lasciato un lavoro sicuro in cui c'era un ambiente rettiliano lei ha definito lei vedeva lei lo vedeva di più avendo questo collegamento un discorso collegamento con un discorso unibito rettile quindi lei lei vede in generale cioè io come dicevo prima vedo proprio tramite i suoi occhi come se lei vede cioè lei vede le interferenze quindi lei non ha filtro riguardo a questo che poi il suo cervello lo come dire lo filtra perché a livello fisico e mentale dobbiamo dare una spiegazione ma lei lo vede e siccome a questo collegamento maggiore per via di questo clone che sta su questo viene di questo ibrido che sta su questo pianeta e della sua ps che riconosce comunque quel tipo di dna è come se maggiormente lo vedeva di tipo rettiliano ma in realtà in quel posto di lavoro come purtroppo un po in tutto lei vedeva questo il 10 per cento di dna rettiliano quando si è presentato questa vita quando ho un'altra vita no io vedo mi sembra che prima abbiamo visto l'anno che veniva fatto il clone è qui c'è il discorso della del libido del con il suo dna di di adesso è stato fatto quindi qui c'è quest'anno era l'ottanta e 980 90 non mi ricorda 90 90 se non ci trovate il clone si è mai ridotto prima eravamo anche scritto quindi corrispondenza del clone se prima no no va bene causa esoterica del non sentirsi appartenente alla famiglia famiglia cattolica religiosa lei no la sua ps ha una buona consapevolezza quindi comunque già lei a livello fisico a livello di qua su questa linea temporale su questo momento della sua esistenza ha già fatto dei passi per esempio il cambiare lasciare situazioni che non ne andavano a genio che la facevano sentire comunque non a suo agio che capiva che erano imposte dalla società quindi più diciamo vai verso come nel suo caso la direzione della libertà nel senso di fare ciò che veramente lei ha voleva fare quindi dedicarsi a qualcosa che le piaceva più comunque come se la è come se la la tua consapevolezza cresce ti rendi conto che è come se tu guardi sali dei scalini e poi guardi in basso e dici non è così come me l'hanno raccontata per questo il senso che lei ha lei comprende che le hanno raccontato le balle lei ha conto tutti per la propria attività lavorativa indipendente per le mani che dai figli perché non va in chiesa specialmente sua madre che solamente la famiglia e la madre non c'è molto da vedo tante invidia vedo invidia ne sono anche familiari se anche familiari cioè realtà quello che mentre me lo chiedevi io lo vedo anche nei confronti della mamma come se la mamma inconsapevolmente probabilmente prova invidia nel senso che lei è riuscita a fare può indirizzare parte di ciò che voleva e avere ma chiarissimo la madre però deve staccarsi dalla chiesa quindi è inutile che dica delle cose del genere e vada a invidiare la figlia e poi va a pregare la madonna in chiesa sistema di credenze le palle sono piene di tutti scusate se però è un esaltato ma le palle sono piene svegliatevi la madre prenda internet e vada a cercare chi era la madonna se miramide e le varie società e le varie civiltà del passato è sempre la stessa filastroca quindi quando si parla di sistema di credenze non è un'invenzione è storia è storia iside è la madonna quindi di cosa stiamo parlando miramide babilonesi ishtar una di quelle che ha canalizzato uno dei primi che ha fatto ipnosi e che un'entità coi contro coglioni era all'epoca dei sumeri quindi cosa stiamo parlando siamo ancora qui la madre che invidia la figlia la madre si faccia due conti due ricerche e poi butti tutti sti cazzo di crucifissi di casa e inizia a pensare con la sua testa basta sistemi di credenze il mondo va per i sistemi di credenze basta preferiscono anche me quindi mincazzo certo queste informazioni passiamo dalla madre come una tonnellata di miele luminoso e che falle non se ne può più non se ne può prende il miele una donna una signora che viene che si è sentita chiamata mentre la chiamiamo chiama anche la madonna chiama la vergine maria voglio vedere la vergine maria dove controllo diremo mentre tu ne parlavi lei era già la già si è presentata come i siti della donna con si presenta con una lunga treccia la vera faccia di questa entità non inizia voglio la vera faccia adesso si presenta come un elohim poi come un angelo con gli occhi rossi e io vedo una coda da serpente certo è una retta è un rettile la madonna è legata fortemente ai rettiliani sì perché quando hai detto la vera stava cercando di confondermi angelo elohim inizia eccetera poi però l'ho cercato di vedere mai ho visto la coda tutta la merda di stammo di sto mondo è lì dentro dentro uno dei simboli dei tanti simboli dei sistemi di credenza tutta la merda di sto mondo sono incazzato oggi si sono incazzato sono molto più importanti le api del sistema di credenza di qualunque tipo quindi tutti quelli che invidiano cristina nel suo lavoro delle sue gravidanze del suo compagno dei suoi figli se lo fanno per motivi religiosi vengano ricoperti di miele da me l'informazione e l'informazione in primis è la madonna con la coda di serpente e sta ste miramide isis ci sono tante mamme di altri bimbi invidiano però non tutte tutte fuori tutte quelle credenti che conosce cristina e che la invidiano vengano a farsi il bagno di miele informazione non interferenza interferenza tranne in chiesa sono sono che abbiamo creato una abbiamo posta così una piscina di miele e le ps che stiamo chiamando che accettano l'informazione si fanno il bagno nella piscina perché fanno prima così quindi in questa piscina di miele sono tutte vedo mamme di bimbi la mamma che ha ascoltato il cuore e ora che l'hai nominate ne vedo lontane lontane con il vestito tipico da suora e tanti 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 elohim angeli intorno che che si tengono per mano e li accerchiano e loro sono con la testa bassa per cosa per la vergogna no ha come se non come come se dicono ma che cosa state facendo tra celli in fondo sì però c'è l'influenza di questi angeli intorno né no 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 adesso mi spiegano vengano avanti le cinque suore venga la capa delle cinque suore ci spieghi che cosa sto facciamo facendo cosa significa e mentre si avvicina tiene un libro aperto davanti a te con tutta la storia della madonna tutta l'evoluzione della favola della madonna si avvicina una una di loro che alza il biso e dalla più anziana e mentre dicevi del libro noi io l'ho aperto io lo sto facendo vedere e si è girata verso quella cosa strana con la coda che dovrebbe essere la madonna e si sta come se fosse sorpresa di quello che sta vedendo bisogna così la baci e la deve baciare la coda no è la madonna e il velo blu è l'abito blu della madonna classico carabito blu della pittura di tutte le epoche che rappresenta la madonna però ma le cose arriva baci e allora cosa sta dicendo cosa stiamo facendo ancora e qui che dice ancora cosa stiamo facendo gli sta chiamando le altre suoi per farli venire a vedere le altre si avvicinano è come se questi angeli che la circondavano si siano allontanati perché la loro volontà le ha fatto allontanare la la madonna la sua madre le abbra le abbia chiamate per venire a vedere finire le ps delle altre vengono a vedere questo libro e guardano la coda della madonna quello che ha veramente va bene che facciano loro percorso causa soteri che ha del fatto che l'affitto è gratis verrà chiesto quello che mi è arrivato subito come se ha chiesto qualcosa a livello energetico dopo di solito nulla per nulla energetico quindi di l ma a lei è come se fosse un impatto però a livello eterico quindi alzandomi e come se loro dicono ok tu soffrisci di questo per fare una cosa e poi però ci sarà una richiesta a livello eterico che però a questo punto ovviamente lei potrà accorgersi ok come la vedi cristina ancora 9 miliardi io vedo che dopo che lei si è adesso resa conto di tante cose come se no 15 come si accresce la vibrazione è come se la sua energia diventa più la consapevolezza innalza liberano cioè il clone a 15 come scusa esiste ancora il clone visto che lei ha 15 miliardi ora che lo disse come se si esiste però è disattivato perché la ps non se non ci va più la ps come se mi si proietta un tra virgolette futuro ma è parallelo è come se la ps non ci va più perché si è resa conto che non è lei che è solo un fotocopio per eliminarlo definitivamente il clone vada nel cluster lì ci sono tutti i contratti di interferenze teriche tutti i contratti di interferenze mentali della vita di cristina e di tutte le sue vite parallele quante sono a proposito 3.180 come li vedi me lo mostra come un alveare all'interno vuoto non senza api però me lo mostra così come un armadio ad alveare e all'interno del quale ci sono tutti i suoi i patti contratti libri sono dei libri libri antichi all'interno della dell'alveare e li prende non prende un libro adesso prende l'alveare come se l'alveare per lei fosse forte energeticamente quindi come se prende questo alveare pieno di patti lo chiude come se già in questa maniera viene disattivato tutta questa energia poi energia i patti sono energia che non fa bene a lei fa questo e poi lo elimina si elimina così è come se è una modalità bella è come se chiudendo l'alveare è come se un'energia più potente e facesse scoppiano non ci sono più distrugge distrugge completamente tutte queste cose a bassa frequenza me ne mostra così o fa gli eventuali residui visto che questa modalità un po originale ma potrebbe anche essere un po pericolosa li raccoglie li butta in un puntale definitivo ha fatto mentre lo dicevi il clone questa prima esatto avatar io vedo dei pezzi di latta per terra tutti smontati completamente inesistenza non attivo lei prende questi pezzi di latta li prende prende il computer lo chiude prende tutto e lo lancio in un buco definitivo all'interno del quale me lo mostra sempre con questo cioè lei apre un buco e mi fa vedere che c'è un alveare energetico potente che come se passando lì l'energia come una dualità l'energia più potente elimina quell'altra come posso a questa modalità me la mostra così e comunque lancia tutto all'interno del portale e lì degli esagoni esatto si passano attraverso questa forma è come se fosse un filtro più potente come se al suo buco definitivo e lei lo fortificasse mettendo questa questo filtro di fatto da alveare ok con questa nuova condizione ci sono con i due dl che giravano intorno il nome tassati no impianti ha levato impianti ha levato e dl le due manti di action clone entità mentale e entità mentale livello 2 no ho fatto niente un po il dna al 10 per cento rettiliano no è umano levato tutto di liberazione 30 miliardi ieri s che pie 60 sempre uguale lei dice che a lei piace così ok se volessero lavorare un po più sull'equilibrio nei prossimi mesi lo può fare percentuali di consapevolezza 127 250 ok i figli sono lì sempre per mano sì e fanno un applauso la mamma bene l'alveare lì si è collegata c'è la è collegata a questa fonte energetica e lì vedo un una forma una fonte energetica e la percepisco però come posso dire diversa la vedo proprio come se fosse un pezzo di esistenza ne dove si creare di tutto il mondo sì 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 a quanto vibra l'alvea il grande alveare 270 miliardi e i figli i figli hanno preso consapevolezza hanno visto il loro ps sono qui da tutta la sessione sono le correzioni quello che piccolino 7 miliardi poi vedo un po più alto che ha dei pantaloncini 10 miliardi questo momento ok ora la mamma la cristina cristina gioca adesso con facciamo un esperimento gioca un po con la sua vibrazione davanti ai figli grande alveare che se vogliono i figli grande alveare possono fare la stessa cosa che fa cristina e di cristina deve prendere consapevolezza che la vibrazione non ha un limite e nessuno ha detto che il corpo fisico ha un limite che può sopportare dopo di che non può più non ha detto nessuno non ci sono regole sono solo balle sta girato scusano mentre lo dicevi lei stava già mettendo in pratica la vedo lei la fisionomia di oggi che gira su se stessa e con una come per aumentare la sua energia e vedo la sua vibrazione che si innalza di più di più mentre gira su se stessa con le braccia aperte a quanto 30 40 miliardi continuo a girare 45 più la rossa 70 mentre legge che fanno girano trovo lodi imitano la mamma e le api che fanno le api è come se a un certo punto quando la vibrazione si innalza come se si diventa collegati come se più ti innalzi e più sei collegato con questa parte esistenziale come posso dire quindi è come se danno si danno energia come se diventa tutta una cosa più alta oggi il grande alviare vibra 270 miliardi nel 1900 il grande alviare a quanto più brava era di più o quanto 500 quindi il grande alviare di oggi deve tornare alla condizione del 1900 o anche di più tutte le affine girino su loro stesse saranno come fa cristina e aumentino la loro vibrazione a mille miliardi vedo tutte le avi che girano imitano cristina che continua a girare come se siamo arrivati ora sto in un punto cristina e lea e questo parte derica di alviare sopra l'universo la terra come se si così più la vibrazione aumenta più ci si va si arriva in posti più alti dove una vibrazione passato non puoi vedere arriva sempre di più vai 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 al falso al falso dammi il numero di cristina 900 miliardi il numero delle api non riesco a vederlo io percepisco il doppio di 900 miliardi 1800 miliardi benissimo figlio grande figlio piccolo girano 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 sono arrivati a 100 tutti e due per essere solo degli spettatori sono stati molto molto bravi molto bene bello io anche mi sono una sala tanto sto bruciando con queste nuove condizioni c'è la donna bellissima africana che ha aperto la sessione c'è lei si quella vita si perché era una bella vita lei si mi fa un inchino come per dire bene grazie ora starò ancora meglio ma lei già era felice la vita i due figli di cristina sono anche lì in quella vita tra i sette assolutamente sì stessa condizione lei madre questa donna bellissima di colore e loro erano tra questi sette bimbi maschi maschi esattamente come ora messaggio finale della ps della pia insieme di cristina lei non lo dico un ottimo lavoro adesso puoi fare qualsiasi cosa tu vuoi riuscirai a modificare anche coloro che sono intorno a te chi vorrà prendere sempre da te vedrai che ci saranno dei cambiamenti intorno a te delle altre persone che ti sono accanto chi vorrà ti rimarrà vicino ma ci sarà qualcuno che si allontanerà da te ma fa parte del gioco ottimo lavoro siamo felici quando guarderai l'alveare ricordati della tua potenza perché guardando l'alveare ora hai un momento di collegamento con noi che ti ricordiamo ogni giorno ogni momento che siamo accanto a te in questo viaggio basta no non ti sentivo più e non ti vedevo più muoverti quindi pensato che ci fosse bloccata e l'alveare cosa dice come se facendo questo lavoro qualche ap e vespa robotica si sia stata disattivata meno che tutte le ricreano ma la parte eterica potente che pulsa che dalla vita alla vita non non la fa entrare però loro le ricreeranno mostriamo a vedere se le ricreeranno se avranno il potere il tempo di ricrearla abbiamo finito quindi disconnettiti da tutto e tutti